Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania, il primo del 2023, un augurio ovviamente a tutti i nostri fedeli e seguaci, ascoltatori, un saluto a Matteo Aldamonte, ciao Matteo, ciao a tutti, reduce dagli impegni con l'Under 21 che a Chieti ha chiuso al terzo posto il suo giorno e poi ne parleremo diffusamente, il giorno di qualificazione ai mondiali, ne parleremo diffusamente nel corso di questa trasmissione che apriamo, vetrina, apertura dedicata al campionato di Serie A femminile che a differenza del massimo campionato maschile Matteo ha già riavviato i motori dopo la pausa natalizia, primo impegno del nuovo anno, verdetti anche importanti che sono emersi soprattutto in una partita, quella che era probabilmente la più attesa. Il riferimento naturalmente è alla vittoria della Cassa Rurale Pontina sul campo della C-Lifestyle l'Erice e la dodicesima vittoria consecutiva da parte di Pontinia che peraltro proprio contro Erice alla prima giornata stagionale aveva iniziato male il suo percorso stagionale ma da lì in avanti aveva poi trovato... Si può parlare di sconfitta salutare, no? Esatto, di fatto sì perché lì si è aperta poi una serie che si è allungata a tal punto da arrivare fino in Sicilia, fino all'inizio del girone di ritorno, una vittoria importante perché stacca a questo punto Erice dal duo di testa se vogliamo, in questo momento Pontinia naturalmente ha un primato solitario nelle mani con un punto di vantaggio però sulla Iommi Salerno che nel frattempo si gode il debutto di Rizzo Gomez, la nuova giocatrice cubana che ha debuttato subito con otto reti nella gara di Casa del Grande. Vediamo il servizio. C'è sempre la Cassa Rurale Pontinia là in alto, esame superato a pieni voti dalle Laziali che alla dodicesima giornata di Serie 1, la prima del girone di ritorno e nel contempo del 2023, espugnano il palacardella di Erice confermandosi squadra leader del massimo campionato femminile. C'è tanto nel successo in terra siciliana, il riscatto dopo la sconfitta dell'andata, la dodicesima vittoria consecutiva, l'ennesima prova di forza anche di fronte alla Iommi Salerno rimasta a questo punto l'unica e vera inseguitrice con un ritardo da colmare di appena una lunghezza rispetto alla prima posizione. Il mercato ha aggiunto piccantezza al tutto, tanto che le campane che passano al palacheope su 35 e 24 contro la Casa del Grande Padana si godono l'esordio col botto della cubana Rizzo Gomez, autrice di otto centri e già l'esordio migliore realizzatrice dell'incontro. L'impatto sulla Serie 1 sarà da mettere a confronto anche con quello di Sandra Radovic, arrivata invece a Pontinia con cinque segnature rifilate ad Erice. Nel prossimo fine settimana prova insidiosa almeno sulla carta più per la squadra di Francesco Ancona che per quella del duo Nasta-Laira. Noi stiamo lavorando piano piano, non abbiamo obiettivi a lungo piano, diciamola, partita per partita, sicuramente abbiamo tutto in testa qualcosa di bello per la fine, perché ce lo meritiamo più che altro, però noi lavoriamo partita partita e vedremo dove arriviamo. Pontinia riceve la visita del fanalino di coda Starmed TMS Teramo, mentre alla pala Palumbo arriva un Cassano Magnago in forze e galvanizzato dal 28-26 contro la Libest Espresso Mestrino. Amaranto ora a sole tre lunghezze dalla quarta piazza occupata dal Brixen-Sutirol e perciò dunque dai playoff scudetto. A concludere la giornata il 23-22 con cui il Tusch e Prato vince lo scontro salvezza contro Mezzocorona e sale a 10 punti, appena uno in meno rispetto alla permanenza diretta in Serie 1 e dunque evitando i play-out. Ma la lotta per non retrocedere rimane accesa, infiammata. Sabato occhio alla trasferta delle Pratesi contro Padova nell'unico e vero scontro diretto del prossimo weekend. Dunque come dicevamo Cassano Rale Pontini al primo posto, vetrina per il team laziale, ospite di questo appuntamento, il primo del nuovo anno, Giovanni Nasta, direttore tecnico del team laziale che salutiamo, ringraziamo per aver raccolto il nostro invito. Ciao Giovanni. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Allora possiamo subito insomma entrare nel vivo della discussione. Ascoltavamo Ramazzotti, mi sembra ben catechizzata, non pensiamo troppo in là, partita dopo partita. E' questo il mantra del Pontini a in questo momento della stagione? Sinceramente dalla prima giornata che noi come obiettivo c'eravamo posti di essere tra le prime a giocare tranquillamente la nostra pallamano con un buon roster, poi i conti si faranno alla fine, ci stanno squadre molto più attrezzate di noi, insomma che hanno più il peso addosso rispetto a noi. Prova un po' a nascondere Sinassa ma mi sembra ovvio e legittimo in questo caso, intanto c'è una capolista, una squadra che insomma, forte anche di un organico uscito rinforzato all'ultimo mercato, sta mantenendo fede a quelle che erano un po' le aspettative della vigilia Matteo. E volevo chiedere al mister come hanno saputo trovare poi intanto l'amalgama proprio perché è una squadra comunque rinforzata con molti molti nuovi e poi che cosa c'è dentro questo comunque percorso tecnico di crescita che Pontini ha avuto in questi anni, ricordiamo una squadra che si è affacciata negli ultimi anni, in tre anni dalla 2 alla prima posizione, che si è riaffacciata nella massima serie, che aveva giocato solamente in un'occasione però retrocedendo una decina di anni fa all'incirca, non ricordo esattamente l'anno esatto, tanto da arrivare a questo punto a mettere in fila 12 vittorie consecutive, che insomma quando sono 12 poi non sono un caso, ecco. Abbiamo iniziato tre anni fa cercando di allestire una squadra con molte giovani che potessero garantire una certa durata nel progetto, però tutto si è basato sull'entusiasmo che cercavamo di creare nel nostro territorio, riuscendo a dare ampia diffusione partendo dal basso, dalle scuole, riuscendo a dare il nostro messaggio a più persone possibile, incominciando a riempire il palazzetto che dopo tanti anni ha incominciato di nuovo a rivedere un certo tipo di pallamano. C'è stata immediatamente una risposta, poi ci siamo stati bloccati dal Covid, c'è stata poi subito una ripresa lo scorso anno e poi abbiamo incominciato a trattenere le giocatrici che facevano di più al caso nostro, abbiamo cercato di dare un po' di esperienza a questa giovane squadra che già l'anno scorso si era avvicinata riuscendo a qualificarsi per i playoff e poi una cosa molto importante secondo me era trovare un altro allenatore che sposasse il nostro progetto e riuscisse a capire l'importanza della diffusione del nostro messaggio nel nostro territorio e in Entoni penso di aver avuto la fortuna di individuare la persona giusta che riuscisse immediatamente a collocarsi come elemento di traino nella nostra realtà. Diamo uno sguardo alla classifica per avere ancora più chiara, nitida la situazione, ricordiamo primo turno del gioco di andata che è già agli archivi, in testa il quartetto credo Giovanni sia abbastanza definito, poi capiremo nel corso del gioco di ritorno quali saranno le posizioni o immagini che ad esempio il Cassano che peraltro sfiderà proprio la Iomisaleno nel prossimo turno abbia qualche chance di inserirsi nel poker che poi si giocherà i playoff Scudetto. Ma non credo che in questo momento ci possano essere inserimenti oltre alle prime quattro. Tra l'altro il Bressanone ha inserito un'altra giocatrice aspettando che arrivi l'infortunata che aveva tanto ben fatto fino adesso. Muratovic la vedo come una squadra sempre quadrata il Bressanone, poi è abituata a questi appuntamenti e non credo che si faccia recuperare terreno dalle squadre che pur ben allestite dietro e che si stanno ben comportando ma non credo che sia una distanza colmabile almeno per adesso. Parlando di nuovi innesti, Matteo sottolineavi l'innesto di Gomez cubana a Salerno, quasi un segno del destino rispetto, ricordando quello che ha dato Gomez a Salerno e che sta dando manco a farla apposta proprio alla Cassa Rurale. C'è un sottile filo che unisce tutti questi aspetti. Tra l'altro a questo punto mi viene da dire che si rinnoverà un duello cubano nella Serie 1. Manca l'appello solo Durand. Esatto, manca l'appello Durand. Abbiamo avuto questo dualismo negli ultimi anni adesso tra Gomez e Gomez se vogliamo. Che ne pensi Giovanni di questo? Ma senz'altro sarà una cosa simpatica e appassionante anche perché insomma la Gomez nostra ha già mostrato il suo valore ed è il più grande valore che potevamo aggiungere alla nostra squadra insieme a Crosta che insomma hanno qualche anno in più rispetto alle giovanissime. La Gomez di Salerno viene da una squadra importantissima, dal Fleury e si è subito inserita bene. Poi nella qualità delle rotazioni del Salerno, una giocatrice così sicuramente è un grosso problema per gli avversari. Vogliamo dare uno sguardo anche a ciò che accade in coda dove Matteo, pesantissima la vittoria del Prato e Daniel Mezzocorona. Prato che sta facendo a meno di Iamu che è stata la trascinatrice per gran parte del gioco dell'andata e della squadra toscana. Esattamente, ha centrato una vittoria fondamentale perché le permette addirittura di portarsi a questo punto a ridosso della salvezza diretta se vogliamo senza passare addirittura per i play out per una squadra neopromossa che non aveva mai giocato la Serie 1 con tante ragazze al debutto, tante ragazze anche giovani come Iamu che in questo momento non c'è, è un risultato fondamentale. Dietro invece la classifica effettivamente è molto corta e bisognerà vedere anche Mestrino come reagirà perché Mestrino ha cambiato guida tecnica quindi bisognerà vedere quali saranno poi gli effetti di questo cambio da qui in avanti. Assolutamente. Anche se mi sembra Giovanni prima di dare uno sguardo al prossimo turno, un mercato molto effervescente, un mercato di riparazione, ricordiamo che c'è tempo fino al termine di gennaio per poter correggere i roster, mi pare che tante squadre si stanno dando da fare, sia le prime ma anche quelle che occupano i bassi fondi della classifica. Sogno di vivacità, di vitalità del movimento tutto questo. Sì, sì, questo fa aumentare ancora l'interesse. Credo che tutti quanti abbiano avuto la possibilità di migliorarsi nei ruoli dove non erano proprio al top e credo che ne verrà fuori ancora più un campionato ancora più interessante se vogliamo che credo sia il più interessante degli ultimi anni, senz'altro. Bene, lo sguardo al prossimo turno prima di salutare Giovanni Nasta. Vediamolo, anche in questo caso con l'aiuto della grafica si parte alle 17 con Iomi Salerno Cassano Magnago, gara molto interessante perché Cassano Magnago come dicevamo nel servizio arriva da una vittoria preziosa al palatacca contro Mestrino, Secur Fox Ferrara, Casal Grande Padana, Derby Emiliano, poi Mezzocorona, Brixen Su Tirol, Cassa Rurale Pontinia che ospita in casa la Starmet TMS Teramo, quindi c'è un test a coda questa settimana, Libest Espresso Mestrino a C-Lifestyle Erice e chiude il programma Cellini Padua Tusce Prato che come dicevamo è una gara importante per gli equilibri della zona salvezza e della zona play-out. Ti fidi del Teramo Giovanni? Del Teramo fananeo di coda? Proprio io non posso fidarmi del Teramo perché ho perso uno scudetto a Teramo. però assolutamente credo che i valori siano abbastanza delineati anche se si è rinforzato ulteriormente credo che il nostro momento di forma debba dare un'ulteriore conferma nel nostro palazzetto, saremo attesi e quindi le ragazze sono molto molto concentrate e stanno cercando di dare continuità il più possibile a questo buon momento di tutte quante. Bene, grazie a Giovanni Nesta e Mocca al Lupo, alla Cassa Rurale Pontinia, grazie per aver raccolto il nostro invito. Passiamo dalla Serie A 1 femminile alla Serie A Gold che riparte dopo insomma una, in questo caso sì, lunga parentesi natalizia. Assolutamente, si ritorna in campo per la sedicesima giornata di campionato, è una sedicesima giornata che farà a meno per il Bolzano perché per gli impegni concomitanti dei campionati mondiali e quindi le convocazioni che hanno riguardato i Bolzanini nel Cile in modo particolare non faranno sì che la squadra altoatesina possa scendere in campo, si torna in campo ripartendo invece da Brixen che guida la classifica con sei punti di vantaggio sul secondo posto. Un mese dopo i suoi ultimi confronti, sabato la Serie A Gold torna in campo per la prima giornata del nuovo anno e la sedicesima del calendario di regular season. L'eredità lasciata dalla fine del 2022 parla di una classifica guidata saldamente da Brixen a più sei sul secondo posto e lanciatissima davanti a tutte le altre. L'inizio della capolista appare soft, l'ex Davide Bulsamini ritrova il suo Romagna d'avversario ma sulla carta i brissinesi che intanto riabbracciano il pubblico di casa sono strafavoriti nel match contro il fanalino di coda del campionato. La convocazione del cileno Francisco Aumada in mondiale di Svezia e Polonia toglie dal calendario Bolzano e di conseguenza il conversano sua prossima avversaria è distratta, almeno per questa settimana dall'inseguimento del primato. Chance insomma per l'Alperia Merano a caccia di un aggancio almeno virtuale alla seconda piazza. Diavoli neri attesi dalla difficile sfida casalinga contro la banca popolare fondi con Jürgen Prantren che dovrà gestire le fatiche di Nicola Fadarelli e Tommaso Romei dopo gli impegni con la nazionale Under 21 nelle qualificazioni ai mondiali. Curiosità per vedere gli effetti di due cambi di panchina. A Siracusa è arrivato l'esperto allenatore argentino Rodolfo Jung mentre era già noto, visto anche lo sfortunato esordio in Supercoppa, l'arrivo di Zupa alla guida della Raymond Sassari. Per Jung situazione di classifica tranquilla mentre per il tecnico spagnolo in terra sarda c'è qualche pressione in più. Vincere contro Secchia Rubiera al pala Santoro è obbligatorio per provare ad accorciare una classifica deficitaria in chiave playoff e tentare di risollevare il morale della squadra in vista dell'unico obiettivo apparentemente rimasto in piedi, ovvero la Coppa Italia di febbraio a Rimini. Tornando a Siracusa trasferta interessante per gli aree Tuesday sul campo della Sidea Group a Fasano, quarta forza della graduatoria che aveva chiuso il 2022 con un passo falso sul campo di Merano. Con un solo punto di vantaggio su Bolzano e sulla quinta posizione i pugliesi di Vito Foveo non possono sbagliare in casa. Completa il programma Pressano Carpi, Trentini a meno due dal quarto posto, Emiliani invischiati nelle posizioni di retroguardia. Attenzione perché è bello si gioca a sabato ma si ritorna in campo già questa sera. Matteo con una partita molto importante per stabilire poi gli accoppiamenti e gli abbinamenti della Fania Lei. È una gara di fatto decisiva, quella che metterà di fronte il Cassano Magnaco al Secchia Rubiera, è uno dei recuperi successivi al reintegro del Secchia Rubiera all'interno della Serie A Gold ed è la partita che almeno sulla carta dovrebbe sancire l'ingresso del Cassano Magnaco tra le otto e quindi completare gli abbinamenti. Cassano o l'ottava che dovrà affrontare il Bressanone poi nel tabellone dei quarti di finale delle Finals di Coppa Italia. In questo momento Cassano ha un vantaggio notevole nella differenza reti. A meno di una debacle Cassano dovrebbe passare. Anche con una sconfitta fino a 12 gol di scarto dovrebbe riuscire a centrare il passaggio in Coppa Italia. Allora vediamo insieme il quadro completo della finale di Coppa Italia. Si è stata ufficializzata proprio settimana scorsa la sede, si giocherà a Rimini nel prestigioso RDS Stadium che accoglierà le 16 migliori squadre dei due campionati, dei massimi campionati maschile e femminile. Sarà sicuramente tre giorni di grande palla a mano con le finali in programma nella domenica 5 febbraio. Prima volta all'RDS Stadium di Rimini che era già stato per la verità a casa di qualche appuntamento, di alcune delle gare delle finali nazionali under 15 durante il festival della palla a mano. Adesso salto di qualità se vogliamo perché arrivano le migliori squadre italiane. E allora quarti di finale femminili con Brixen, Suttiro, Cassano, Magnaco, Acilife, Salerice, Casa il Grande Padana, Salerno, Segur Fox, Ferrara, Cassa, Rurale, Pontini, Acellini, Padova. Per quanto riguarda gli uomini sono definiti tre dei quattro quarti di finale, quindi Alperia Merano-Pressano, Sidea Group, Fasano-Bolzano, Conversano-Raymond-Sassari e aspettiamo l'avversaria di Bressanone, una tra il Cassano-Magnaco e la Team Network Albatro. Ricordiamo, si gioca giovedì, venerdì, poi sabato le semifinali e domenica le finali. Sarà un impegno da sostenere per le squadre, per l'organizzazione, ma non mancherà lo spettacolo, non mancherà la passione all'RDS Stadium. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi la seconda parte sposteremo la nostra attenzione sugli azzurri e sui mondiali che sono ormai pronti per il taglio del nastro. Nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano. Ecco due settimane di torneo e tabellone a 96 giocatori. Sarà un foro italico sempre più straordinario. Non puoi mancare, compra subito il tuo biglietto. Sous-titrage ST' 501 Ed allora, ripartiamo proprio dalla Casa della Palla a Mano. Vedevamo nello spot Casa della Palla a Mano che ho ospitato la scorsa settimana, la scorsa fine settimana, i due gironi di qualificazione ai mondiali anni 21. Erano, tra virgolette, gironi di consolazione per quelle squadre che avevano in qualche modo maturato il diritto a partecipare, ad occupare le ultime due caselle disponibili. caselle che saranno riempite da Polonia e Croazia. Pronostici rispettati. Pronostici rispettati nel gruppo B, quello a tre squadre... Sì, Polonia e Norvegia, insomma... Avevano, diciamo, la stessa percentuale di passaggio del turno. Infatti è finita in pareggio e è stata la differenza reti poi lì a decidere la squadra qualificata. Per quanto riguarda il girone a quattro dell'Italia, la Croazia era effettivamente per i valori e anche per il piazzamento bugiardo degli ultimi europei, perché la Croazia, lo ricordiamo, con quello stesso gruppo nella categoria Under 18 due anni prima era arrivata in finale. Aveva perso poi contro la Germania e invece si era piazzata nelle ultime cinque posizioni agli ultimi europei con delle assenze pesanti, assenze che abbiamo visto poi rientrare a Chieti a partire da Mandic, il portiere che ha letteralmente davvero caratterizzato non solo la gara dell'Italia, anche tutte le gare del torneo. Possiamo parlare di vasi comunicanti, nel senso che in Portogallo l'Italia aveva sorpreso la Croazia, Croazia però debilitata per le assenze di giocatori importanti. E anche un'altra Italia, è una probabilità. Esatto, Italia che però ha pagato Dazio proprio tra le muramiche con assenze pesanti, ma anche giocatori che praticamente erano fisicamente presenti ma non al tocco. Questo lo abbiamo detto tante volte, non abbiamo una base di atleti così ampia da poterci permettere di rinunciare contestualmente nello stesso torneo a Bortoli, ad Aldini. Rovatina ha giocato credo un quarto d'ora in tutto il torneo, Fadanelli ha giocato con problemi fisici evidenti e quindi di fatto la squadra è stata appoggiata su due ragazzi in primis che arrivano dalla nazionale Under 19, ovvero Manolo Vicede Angelis e questo sulle tre partite chiaramente pesa e inevitabile. Questo l'abbiamo visto e lo sapevamo. Al termine della manifestazione abbiamo raccolto le impressioni del Consiglio federale Massimo Petazzi che all'interno poi di questo gruppo svolge anche la funzione di delegato del Consiglio federale proprio al seguito del gruppo allenato e guidato da Boris Popovic. Ascoltiamo. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto così come si è solito fare gli elementi giovanissimi insomma che fanno parte di un gruppo ancora inferiore cioè dell'Under 18 mi riferisco ai vari Manolo Vicede Angelis ma lo stesso Zarone che abbiamo apprezzato contro la Grazia ecco lasciano immaginare comunque un upgrade di questo gruppo. Sicuramente noi abbiamo giocato con una squadra che non era al massimo dell'età quasi tutti i giocatori erano di un'età inferiore e questo comunque può pesare in un'economia generale soprattutto quando poi ci sono tre o cinque partite di fila da fare. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda la speranza la speranza c'è perché le giovani leve stanno lavorando molto bene questa idea della Casa della Palamana è sicuramente stata un tocca sana per quanto riguarda tutta una serie di sviluppi. C'è anche da dire una cosa perché non dimentichiamo che se ci fermiamo a queste ultime due partite magari qualcuno pensa che chissà che cosa di male abbiamo fatto ma non dimentichiamo che questa squadra ha tenuto dei risultati incredibili quest'estate siamo arrivati dodicesimi in Europa che credo non è mai successo in tempi passati e credo che questo risultato ci potrà anche portare qualche fievole speranza per poter magari eventualmente essere ripescati con una wild card nel momento in cui qualcuno si dovesse ritirare dagli eventi di rito e saremo credo i primi ad avere questa eventuale chance e per quello che chiedo a tutti ho già chiesto anche ai ragazzi di non mollare e di cercare di essere sempre pronti per un'eventuale chiamata. Sì, insomma a questo punto la wild card potrebbe essere assegnata all'Italia in caso di rinuncia di qualcuna delle nazioni insomma venti di rito l'idea, la speranza, le attenzioni sono rivolte soprattutto al centro sud America all'Africa, lì probabilmente potrebbero accusare qualche problema qualche perplessità nella partecipazione a un mondiale under 21 di fatto l'Italia non ha conquistato sul campo e per un soffio la qualificazione ma riferendoci al Portogallo Sì, ci è scappata lì ci è scappata lì, sono d'accordo poi quando il consigliere Petazzi rimarca il peso del dodicesimo posto perché se fossimo dodicesimi in Europa come movimento a 360 gradi commenteremo tutte le settimane un'altra palla a mano quindi bisogna rendersi conto che piazzarsi per due volte al dodicesimo posto con la nazionale negli europei di prima fascia non è una cosa da poco E diciamo che la deabbendata spesso volge le spalle all'Italia perché se questo mondiale non fosse svolto in contemporanea in Germania e in Grecia l'Italia con il dodicesimo posto cosa che è sempre puntualmente successa avrebbe conquistato l'accesso ai mondiali Purtroppo sì, questo è un dato di fatto purtroppo con i secco e i ma non si fanno poi le qualificazioni in questo caso però è la verità perché tra l'altro il mondiale sarebbe dovuto essere esclusivamente in Germania la Grecia l'avrebbe dovuto ospitare nell'anno successivo alla pandemia la federazione mondiale lo ha annullato e la federazione tedesca per galanteria ha permesso alla Grecia di ospitare uno dei gironi una delle fasi perché le città saranno tre tedesche e una greca e quindi la Grecia si è qualificata di diritto di fatto escludendo un'europea dall'accesso alla fase finale ok, ci sarà molto tempo e spazio per poter recuperare a proposito di eventi l'evento degli eventi sta per partire i campionati mondiali 28esima edizione 32 squadre si gioca tra Polonia e Svezia 9 città con la finale che si giocherà il prossimo 29 gennaio nella incredibile Tele2 Arena di Stoccolma che ha già ospitato peraltro una finale dei campionati europei 20.000 spettatori sono il massimo della capienza consentita per questi campionati mondiali si riparte con la Danimarca campione del mondo due volte consecutivamente in carica con la Svezia campione d'Europa con la Francia medaglia d'ora alle Olimpiadi insomma il pool di squadra che possono arrivare fino in fondo è davvero ricco vediamo il promo e poi dettagliamo come seguiremo questi campionati mondiali insieme con la Svezia campione 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 Polonia e Svezia dunque le nazioni ospitanti di questi campionati mondiali noi seguiremo 15 gare le migliori di questi campionati mondiali in diretta su 11 Sports vediamo il palizzesto perché si parte già questa sera alle ore 21 con la gara inaugurale peraltro che si gioca a Katowice in casa della Polonia Polonia che affronterà i campioni olimpici della Francia tra l'altro è anche una gara che ci riporta al girone di qualificazione a Euro 2024 è lo stesso girone con l'Italia e sono due squadre ed è una partita per nulla scontata perché la Polonia giocherà con un'atmosfera incredibile naturalmente a Katowice nella giornata poi di domani alle 20 e 30 seguiremo Islanda-Portogallo 13 gennaio invece quindi tre giorni consecutivi ancora 20 e 30 Egitto-Croazia 15 gennaio alle ore 18 nel pomeriggio Macedonia del Nord contro Paesi Bassi e il 16 gennaio alle 20 e 30 Portogallo-Ungheria ricordo che si affrontano 32 squadre passano il turno vanno al main round tre squadre su quattro dei gironi quindi questa prima fase servirà a delineare un po' gli equilibri della fase successiva dove poi i punti diventeranno invece pesanti anche per il main round seguiremo 5 partite le semifinali e i quarti di finale andranno tutti in diretta la finale sicuramente andrà in diretta sui Leve Sports e anche su Sky e allora questa è un po' la guida poi basterà consultare quotidianamente il nostro sito figiaccafederhandball.it i nostri canali social per avere un aggiornamento costante su quanto sta avvenendo in Svezia e Polonia e soprattutto consultare l'agenda degli appuntamenti televisivi sui Leve Sports ricordiamo finale anche su Sky Sports ma non dimentichiamo che nel prossimo fine settimana ritorna al gran completo la pallamano dell'elite italiana con la serie A Gold maschile e la serie A1 femminile che insomma è già alla seconda giornata del nuovo anno quindi tantissima pallamano sui Leve Sports esattamente quindi agenda che potete trovare come dicevi su federehandball.it per non perdere niente per fissare tutto senza problemi e rimanere sempre aggiornati grazie a Matteo Aldamonte a Sabrina Alessio al coordinamento noi ci ritroviamo giovedì prossimo buona fine settimana buona pallamano a tutti arrivederci